Santuario dell'Immacolata a Pennegan, il monte di Belluno, vicino alla sede dove noi stiamo alloggiando questi giorni dedicato alla Madonna Immacolata. È un santuario moderno, come vedete, trappiazione di legno, copertura di legno. Questa è l'aula eucaristica per l'Assemblea dei Grandi e questa è l'aula piccola con il Santissimo che vi ho celebrato e anche per le confessioni. Arrivederci.